Da neonato di zero mesi a piccolo eroe che cammina fiero ed orgoglioso del suo grande traguardo. Ma da dove parte questo entusiasmante percorso di apprendimento che porterà il neonato a migliorarsi costantemente e raggiungere un traguardo così ambito? La risposta è sin dal primo mese di vita del bambino. Saranno tutte le stimolazioni e le attività motorie che verranno proposte ogni giorno al bambino durante l'arco del primo anno di vita a plasmare gradualmente l'esperienza e la capacità così che il suo sviluppo possa progredire al meglio di mese in mese. Vedremo infatti che nonostante età ed esperienza del bambino siano altamente correlate tra loro, il principale indice predittore nel miglioramento del suo sviluppo motorio non è tanto l'età, quanto piuttosto la qualità e la quantità di esperienza che i genitori offriranno al bambino. In questo videocorso vedremo proprio come il genitore all'occasione di partecipare attivamente nel percorso di sviluppo motorio del proprio bambino accompagnandolo sin dai primissimi mesi di vita in modo divertente e amorevole. Nel videocorso From Zero to Hero vedremo insieme di mese in mese quali sono e come favorire tutte le tappe motorie cui il bambino dovrebbe andare incontro nel primo anno di vita, come sostenere adeguatamente la testa e il busto, rotolare, ruotare su se stesso, strisciare, gattonare, stare seduti, alzarsi in piedi e così via fino al cammino autonomo. Vedremo inoltre quali sono gli errori più diffusi che rischiano di compromettere lo sviluppo motorio ottimale del bambino.